una cosa di montonaro qui sono due mila euro restano 4 il conto suo era 5.7 5.7 più un novecento se sei te Il primo mese, il primo mese, fino a quello che è in Italia, è il primo quattro mese, il primo mese, il primo mese, il primo mese, il primo mese, finché non si chiudono, per qualche panetto, per uno stesso mese. Ah, così, è un'altra cosa che volevo dire, no? E se l'hanno, erotica, li... Non si muove aota, magari cosa so, giusto mostaciamo proprio a suo cuore, non capito che fanno davvero una cazia per precisione. è un problema che se non venite ma vi seguono, vi fanno non penso che non vengono ancora magari potremmo